Ciao a tutti e tutti, benvenuti in questo nuovo video, mamma mia ragazzi, sono emozionatissima, allora oggi vi farò un video unboxing barra prima impressione, video recensione, non so come chiamarlo, come avete letto dal titolo ho fatto un ordine sul sito di Nabla Cosmetics e mi è arrivato ieri il pacchetto, volevo fare ieri questo video ma tra una roba e l'altra non ci sono riuscita e quindi lo facciamo oggi, questo è il pacchettino contenente appunto l'ordine che ho fatto sul sito di Nabla, non è assolutamente un video sponsorizzato, in collaborazione, magari, magari, comunque io ovviamente ho già aperto tutto per vedere se nulla fosse rotto però ho cercato di non rompere la confezione per lasciarvi anche a voi la stessa esperienza che ho provato io più o meno Questo è il mio primo ordine da Nabla che mi è arrivato a casa, lasciamo stare, vabbè, chissà se un giorno ve ne parlerò comunque, allora vi faccio vedere il pacchettino Tan tan tan, come vedete la scatola è brandizzata appunto con tutto il logo di Nabla, qui c'è la velina con lo stickers che io ovviamente ho cercato di non rompere perché la vorrei anche conservare così carino e poi all'interno troviamo carta, 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 togliamo questo, questa carta è bellissima sicuramente la riutilizzerò per fare i regali di Natale e 3, 2, 1, tan tan, questo è il mio primo ordine che ho fatto appunto sul sito di Nabla, ho comprato due prodottini in questo ordine, oggi stesso mi arriverà un altro pacco con altri due prodottini che vedrete in un altro video Quindi oggi andremo a recensire una delle ultimissime cutie palette, questa qui è la Metropolitan ed è la numero 4 ed è bellissima, forse fra tutte è la mia preferita Ancora non l'ho provata quindi sono soltanto le prime impressioni così un po' visive e quindi è molto molto carina questa qui, adesso poi ve la farò vedere ovviamente in tutto il suo splendore Il secondo prodotto che andremo a recensire, posso penso levare la scatola, il secondo prodottino che andremo a recensire invece sarà un Dreamy Liquid Lipstick quindi un rossettino liquido, questo qui è matte e della colazione quella Dreamy che hanno fatto ispirata alla costellazione, alle cose un pochino magiche Io non ho altre palette di Nabla quindi non ho la Dreamy 1 e non ho la Dreamy 2 però per il momento ho appunto il rossettino liquido Questo qui è nella colorazione Vanilla Queen e dovrebbe essere il più chiaro in gamma e questo era quello che mi ispirava di più, la confezione è bellissima C'è l'esperienza di aprire questo rossetto è un qualcosa di meraviglioso Io penso che Nabla sia uno dei brand che tiene secondo me maggiormente alla cura nel packaging italiano soprattutto Veramente non ho trovato altri brand che curino così tanto il packaging Anche Clio mi piace, sapete ho diversi prodotti di Clio, lì c'è la palette Però penso che Nabla per quanto riguarda il packaging forse sia giusto un ciccino più avanti, non di più Mi deve anche arrivare un pacchetto da Clio, anche di quello vi farò un video E quindi andremo a recensire appunto questi due prodottini Questa qui fra tutte le QT Palette, ovvero la Metropolitan, la numero 4 È l'unica per il momento fatta in collaborazione con un artista Infatti, questo è il pack secondario Infatti come vedete la grafica di questa palette è molto molto carina Secondo me è più ricercata insieme a quella Wildberry Che hanno la grafica secondo me più ricercata e più particolare se vogliamo Questo è il pack nella parte frontale Nella parte posteriore troviamo tutte le references in base ovviamente al PAO, vegano cake, cruelty free eccetera eccetera Proviamo anche riferimento per la pagina Instagram appunto dell'artista che ha realizzato questa palette Tan tan tan, eccola qui Eccola qui, allora c'è il classico cartoncino che io trovo molto utile Difficilmente butto questi cartoncini perché coprono bene la palette E questo è l'interno della palette Questi sono i colori, sono bellissimi Ci sono veramente tantissime tantissime texture all'interno Io vi scriverò in sovrimpressione ogni singolo colore che tipo di texture ha Nabla penso sia molto famosa anche perché ha creato diverse texture appunto nel corso degli anni Ok, allora io sulla palpebra ho applicato un velo sottilissimo di correttore Quindi non ho tanto prodotto su e non l'ho settato quindi è ancora appiccicoso Spero solo che la palette riesca a sfumarsi tranquillamente senza dover settare la base Ma vabbè vediamo, al massimo faccio quest'occhio Se vedo che è difficile lavorare gli ombretti senza la base asciutta Magari l'altro occhio lo asciugo con un pochino di correttore Allora io vado a prelevare come primissimo colore Vabbè ragazzi che ve lo dico fare Il color corallo che si chiama Nothing Personal Quindi lo andiamo a prelevare con un pennellino piccolo piccolo Allora non è molto polveroso Poco poco, non tantissimo Quindi va bene Spero non sia un ombretto troppo secco Sbatto bene 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 l'eccesso E vado a fare una specie di sfumatura Ok, allora Per il momento non è molto molto pigmentato Ma io ho sbattuto tantissimo il pennello Ok, sta uscendo tutto adesso il colore Carino Sapete che io faccio spesso e volentieri Make up con questo genere di colori Ovvero col fucsia, col corallo Perché penso mi stiano particolarmente bene Poi adesso che è estate ancora di più Perché come vedete sono un filino più abbronzata del solito Ho messo diversa terra Però sono un filino più abbronzata Quindi il colore corallo Dovrebbe starmi anche un po' meglio Come al solito io vi ricordo Che non sono una make up artist Quindi è un po' come se io fossi una vostra amica E vi do un po' la mia recensione di questa palette Niente di più, niente di meno Adesso lo vado un attimino A sfumare magari Verso il lato dell'occhio Verso l'esterno Allora per il momento mi sembra che si sia sfumato abbastanza bene Quindi faccio la stessa cosa anche dall'altro occhio Quindi prelevo un po' di colore Un bel po' E poi scarico l'eccesso Ok per il momento ci possiamo fermare qua Anche perché non voglio fare una roba troppo 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 colorata Inoltre ho anche fatto molto di recente un trucco sul fucsia Adesso vado a prendere sempre con lo stesso pennellino Il colore più scuro che si chiama Lord Quindi lo prelevo Ho sentito dalle varie recensioni Che il fucsia tinge un po' la palpebra Però è anche normale Perché comunque il fucsia è un colore molto sintetico Non si trova in natura E quindi è normale che molto spesso Soprattutto quelli molto accesi come questo Come vedete questo è un fucsia corallo Tingano un po' la palpebra Ma vabbè ragazzi in uno o due giorni sparisce Nulla di preoccupante Il colore Lord lo applico nella parte esterna E un po' anche nella parte interna Per fare una specie di Elo Eye Si chiama penso Quindi lasciando soltanto la parte centrale libera E torniamo al discorso Clio Nabla Allora vi ho fatto appunto questo sondaggio su Instagram Chiedendovi quale brand voi preferiate fra i due E la maggior parte di voi mi hanno risposto appunto Nabla Io non sono stata molto sorpresa da questo esito Perché comunque Nabla ha una fan base Da molto più tempo rispetto al Clio Makeup Shop Entrambi hanno una brand identity fortissima Questo non lo metto assolutamente in dubbio Sfumo con un pennello pulito Questo qui è un po' grande Ma vabbè ce lo facciamo andare bene E quindi capisco che molte delle persone Possano preferire Nabla Perché comunque c'è da più tempo E rivenduto comunque da un colosso come Sephora Mentre Clio per il momento è un marchio ancora abbastanza indipendente Se vogliamo dire così E entrambi come vi dicevo hanno una brand identity parecchio parecchio forte E molto spesso mi chiedete Liuba ma cosa vuol dire brand identity Giustamente non tutti lo sanno Praticamente per spiegarla in maniera molto molto veloce e semplice La brand identity è veramente come è tradotto l'identità di un brand Quindi l'identità di un marchio E la spiegazione più semplice che vi posso dare è un esempio Ovvero cercate di prendere il brand Nabla e il brand Clio E affibbiate ad entrambi due o tre parole chiave Molto probabilmente le parole chiave che affibbierete ad entrambi i brand Saranno molto simili a quelli di altre persone Per esempio quando io penso alla brand Clio Makeup Shop Penso corallo, rosa, giovanile, divertente, frizzante E molti di voi probabilmente penseranno le stesse parole, gli stessi aggettivi Mentre quando penso a Nabla penso a lusso Penso a colori nude Penso a loro, penso a un qualcosa di più sexy E anche voi molto probabilmente farete riferimento a questo tipo di aggettivi o parole Quindi per spiegarla in maniera molto molto semplice Questa è appunto la brand identity L'immagine che dà il brand Quindi l'immagine che dà Nabla o Clio alle persone Quindi agli acquirenti e a tutto il resto del mondo Ecco per intenderci Ok fatto ciò come vedete è una cosa molto molto leggera Ma io avendo un occhio piccolino non posso strafare particolarmente Adesso faccio la stessa identica cosa anche nell'altro occhio Ok fatto ciò adesso io la cosa che volevo fare in assoluto come vedete Innanzitutto 0 0 0 fallout Anche il colore più scuro Assolutamente nessun fallout L'unica cosa che volevo fare adesso Magari tolgo i pennelli Era andare a prendere un colore Di quelli appunto shimmerini glitterini metallizzati Da mettere nella parte centrale della palpebra Tutti i colori mi ispirano tantissimo Sicuramente quelli che mi Mi intrigano di più sono Questo e questo Ma anche loro due sono meravigliosi Però penso che per il trucco che abbiamo fatto in questo momento Il colore dissolution Che è questo Non so come spiegarlo È una specie di viola marrone Un po' bronzato Veramente molto carino Un colore ruggine se vogliamo Alaska ovvero il colore più chiaro E più un topper Che è un vero e proprio colore Quindi magari lo utilizzeremo all'interno dell'occhio Per dare un po' Una parte un pochino più luminosa Per fare questo lavoro Io prendo questo pennellino di Jessup Che è il numero 226 Ed è lo smudger brush E mi piace tantissimo Quindi da una parte Prelevo il bronzo E lo applico più esternamente Vicino al marrone scuro Mentre nella parte proprio centrale Centrale Provo ad applicare soltanto il dorato Vediamo quello che esce Non bagno il pennello Quindi vediamo come da asciutto Ma non dovrebbe essere un problema Ok Ok a questo punto applico il dorato Nella parte interna Quindi giro il pennello Nella parte pulita E prendo il dorato Mamma mia ragazzi Che meraviglia Questo è il risultato Cioè non so che dire Allora il dorato È l'unico Fra tutti quelli che ho utilizzato Per il momento Che mi ha deluso un po' di più Provo ad applicarlo col dito Perché ecco Col dito è tutta un'altra cosa Applicatelo col dito Non col pennello Applicato col dito Mi fa ricreere di tutto Anche il dorato È veramente stupendo Veramente bellissimo Ovviamente Questi ombretti Così più lucidi Più shimmer Hanno una texture Quasi bagnata Quindi applicati col dito Rendono sicuramente di più Ragazzi ma voi avete qualcosa da dire Perché io non ho assolutamente niente da dire Cioè sono esterrefatta Sono veramente meravigliata tantissimo Io spero che si possa percepire proprio Il sole che producono questi ombretti Sono andata un attimino a scurire le parti più scure Perché applicandoci glitter sopra Si sono un attimino schiariti Non cadere Perfetto Adesso con un pennellino a penna Piccino piccino Vado un attimino a intensificare La parte inferiore dell'occhio Ma non voglio fare una cosa Troppo troppo Wow Vediamo quello che esce fuori Quindi Riprendo il color lord Quindi il più scuro Sbatto bene l'eccesso E lo applico nella parte finale Iniziale dell'occhio Lasciando la parte centrale libera Per poi mettere di nuovo il color dorato Ok per il momento abbiamo fatto questo È veramente molto molto carino A me piace tantissimo Quindi prendo un altro pennello Questo magari lo bagniamo un pochino Quindi prendo uno spray Questo qui è un tonico Ma voi potete utilizzare anche della semplice acqua Non cambia niente Bagno poco poco il pennello E prelevo un pochino Del bianco topper Con il marrone lord sotto È diventato viola C'è cambiato Ha preso i riflessi del viola Non so come dirvi Come vedete Sull'occhio adesso risulta più viola E più rosato Rispetto che sulla cialda Questo perché ha preso il pigmento Che c'era sotto Quindi la parte marrone violacea È veramente carino Dà un effetto Molto bagnato Come se avessi pianto E qua ci fosse Non so Dell'acqua È veramente molto carino È un look sicuramente Impegnativo Non è Tra i più semplici Che ho mai realizzato Però è molto molto carino Ok quindi questo è il make up Con il mascara Ok questo è il make up Quindi realizzato Con la Metropolitan Di Nabla Io sono veramente Soddisfatta del make up Che è uscito Sono veramente soddisfatta Di me stessa Sapete che Non faccio Quasi mai Make up Troppo elaborati Anche questo Non è complicatissimo Perché non ho fatto La cut crease Non ho messo comunque In righe di eyeliner Veramente è stato Molto veloce Nonostante comunque Ha richiesto diversi passaggi Diversi pennelli I colori Mi sono piaciuti tutti L'unico colore Che non ho ancora utilizzato È stato lui Ovvero Love Raisin Che utilizzerò magari In un altro Make up look Questo qui lo vedo Un colore Molto molto Autunnale Quindi mi darà soddisfazione Magari in autunno In inverno Io sono veramente Molto molto felice Veramente Innamoratissima Adesso Andiamo All'applicazione Del rossetto Del liquid lipstick Perché ovviamente Dobbiamo andare a provare Tutto quello che ho comprato Quindi Andiamo A vedere Come è il colore Se effettivamente È come me lo immaginavo Oppure no Ha lo stesso Identico odore Dei rossetti di Clio Molto molto simile Dei rossetti liquidi Molto 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 simile Cioè cosa Cosa devo dire Ditemi voi Cosa devo dire Perché io vi giuro Vi ripeto Si chiama Vanilla Queen È stupendo È un nude Non so come descrivervelo Perché è un colore Carne Ma comunque Molto chiaro Con una punta di pesca Ma non troppo caldo È una pesca fredda Non so come descrivervela È veramente Stupendo Veramente Veramente Molto bello L'unica cosa Che sto notando È che Enfatizza Tanto tanto Le pellicine Quindi è parecchio Secchino Sulle labbra Quindi se avete Le labbra Molto molto secche Vi conviene fare Prima uno scrub Poi mettere Del burro di cacao E vedrete Che la situazione Sarà molto migliore Io non ho Tantissime Tantissime Rughette Nelle Nelle mie labbra Mi raccomando State allerta Sul canale Perché devo fare Un altro video Unboxing E recensione Sempre di prodotti Nabla Che mi arriverà Tra oggi e domani E devo fare Anche un video Su clio Quindi ci saranno Diversi diversi Video make up In questa settimana Spero che vi facciano Piacere Perché io amo Girare video make up Io come al solito Vi chiedo di supportare Questo canale Ovviamente iscrivendovi Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi E mettendo mi piace A questo video Fatemi sapere nei commenti Se voi avete Queste palette Se le avete utilizzate Se le vorreste provare E quindi nulla Io vi mando Un grosso grosso bacio E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao bimbe Ciao bimbe Ciao bimbe Ciao bimbe